Adesso è successo che è stato presentato un emendamento a firma di alcuni parlamentari del Partito Democratico, emendamento che è stato dichiarato inammissibile per problemi di copertura economica. Sono state individuate le coperture? Sono state individuate le coperture, emendamento che Commissione all'unanimità, quindi tutti i membri della Commissione erano disponibili a sostenere. Siccome tutti gli emendamenti hanno il parere di relatore e governo prima di essere messi in votazione, il relatore ha dato parere favorevole, il governo nella figura prima di De Vincenti che era nelle sale fuori dalla Commissione a programmare l'attività, visto che queste cose sono accadute durante la notte, perché poi questi emendamenti spariscono sempre durante la notte quando non ci sono i giornalisti che possono vedere esattamente cosa sta succedendo, e poi in seconda battuta il governo nella figura del Vice Ministro Morando presente in Commissione ha dato parere negativo. Non solo è successo questo, ma anche di fronte alla disponibilità di tutti i deputati della Commissione di dire vabbè, ok, però magari anche un ordine del giorno, comunque diamo un segnale di interesse, un ordine del giorno non si nega a nessuno, si dice, ed è vero, anche all'ordine del giorno hanno detto no. E quindi fa bene Michele Emiliano, ha fatto bene il Presidente della Commissione Boccia, hanno fatto bene tutti quei parlamentari che si sono dimostrati disgustati di questa scelta, anche perché io, Emiliano, mi permetta, non ho fatto mai il magistrato, però per me quando ci sono tre indizi fanno una prova, molto banalmente. I tre indizi si chiamano, 600 milioni alla Regione Campania nel decreto fiscale, la possibilità per De Luca di fare il commissario alla Regione sulla sanità contro la legge fatta dallo stesso Renzi, Però questo è un po' una strumentalizzazione rispetto alla vicenda dell'ILVA, scusi. E il no ai soldi per i bambini malati, vittime dell'inquinamento dell'ILVA. Beh, per me sono tre indizi molto chiari, mi dispiace per lei, e fa bene il comitato dei cittadini di Taranto a manifestare sabato in piazza, perché di fronte alla salute dei bambini non c'è referendum che tenga, è una priorità, e quindi del silenzio elettorale, non silenzio elettorale, non ce ne frega nulla. Semiliano, a piacere, io ci sarò sabato, anche se non sono pugliese, ma sono stata in Puglia questi tre giorni, e so qual è il clima dei pugliesi e soprattutto dei cittadini di Taranto, delle famiglie di Taranto, rispetto a questo tema. Renzi si deve assumere la responsabilità politica ed umana di aver detto no a questo emendamento.